leggere è un'azione complessa, composita, stratificata richiede una predisposizione del corpo e dello spirito ad accogliere la storia nella quale ci stiamo incamminando però ci sono degli aspetti della lettura che non consideriamo perché abbiamo un'idea limitata di quello che è l'atto di leggere ci sembra che leggere si limiti solamente ad aprire il libro e cominciare a scorrere le righe e quindi ad immaginarci la storia che stiamo leggendo, i personaggi, gli ambienti la concentrazione che ci richiede seguire la trama che chi scrive ci sta presentando eppure non è così ma non è colpa nostra se non ce ne accorgiamo purtroppo è un difetto della nostra lingua non esiste non esistono sfumature per identificare le diverse fasi dell'atto di leggere allora poiché non possiamo limitare la lettura al solo momento in cui apriamo il libro la domanda che ci possiamo porre è quando inizia l'atto della lettura? Quando è che cominciamo veramente a leggere? è curioso ma la lettura parte da uno stadio primitivo che è addirittura preverbale significa che l'atto di leggere non ha solamente a che fare con le parole non ha solamente a che fare con la successione delle frasi e quindi con la costruzione della storia anche la costruzione mentale che io faccio della storia mentre la leggo la lettura ha una dimensione preverbale che è puramente materiale cioè è fatta da tutti quegli aspetti tutte quelle micro azioni che io compio per apprestarmi alla lettura tutto ciò che precede il momento in cui leggerò tutto ciò che compone la preparazione del momento l'allestimento dello spazio in cui leggerò rientra in questa parola contenitore che arricchiamo proprio perché non abbiamo la possibilità di declinarla in sfumature rientra dentro questa parola e questo verbo che è leggere in che modo in che modo inizio a leggere coltivando il desiderio di un momento che dedico a questo atto preparando con cura il momento in cui incontrerò la mia storia non solo è il momento in cui io faccio uso di determinati sensi che in qualche modo costituiscono un ponte che mi avvicina all'atto di leggere allora possiamo dire che io comincio a leggere molto prima di quando comincio a leggere scegliere il luogo in cui mi metterò a leggere su una poltrona a terra sui cuscini sui pioli di una scala dentro casa fuori casa da quali rumori atmosferici farmi circondare riesco a concentrarmi fuori in mezzo al traffico ai rumori naturali oppure ho bisogno di uno spazio intimo dentro casa magari con della musica o senza musica in che sotto quelle luce mi piace leggere tutte le scelte che faccio in questo senso costituiscono la fase preverbale della lettura dell'atto di leggere ma sono essi stessi lettura perché costruiscono la dimensione ideale nella quale io poi sviluppo l'esperienza di lettura però ci sono anche altri aspetti precedenti che non considero perché cadono fuori dall'etimologia stessa del leggere e li associo a puri gesti meccanici selettivi o operativi ma sono dei gesti talmente necessari che non possono essere esclusi dall'atto di leggere scegliere il libro operare un discernimento tra un titolo e un altro passare il dito sugli scaffali o sulla pile che ci ritroviamo sulle scrivanie lo stesso scegliere quali libri acquistare contemplarne le copertine e rimanerne colpiti tenerci il libro tra le mani sfilarlo dalla sovracoperta tastare il materiale di cui la consistenza della carta e della copertina costituiscono una parte non secondaria dell'atto esperienziale che facciamo prima di metterci seduti e di immergerci nella storia perché non perché non lo consideriamo lettura anche questo processo che è antecedente alla lettura così come la conosciamo perché in qualche modo non siamo persone abituate a intendere la lettura come un'esperienza e di conseguenza venendo meno questa consapevolezza dell'esperienza della lettura come esperienza stringiamo schiacciamo la lettura al puro rapporto immediato che abbiamo con con la carta stampata con le parole scritte e a tutto ciò che cade fuori da questo atto meccanico non lo consideriamo non non rientra nemmeno nell'ipotesi che quella possa essere lettura nel momento in cui io mi trovo davanti una serie di titoli e opero una scelta sto già secondando un desiderio chiedermi che cosa voglio leggere è già a secondare la lettura sto sperimentando che cosa mi chiede il mio stato d'animo di quel momento il mio gusto del momento la mia esigenza del momento che storie in quel momento io ho voglia di incontrare quali quali vicende umane riesco a sostenere nella condizione umana nella quale io mi sto trovando in quel momento non si tratta di pescare a caso e nessuno di noi lo fa nessuna lettrice nessun lettore pesca veramente a caso le letture ma è sempre guidato da un desiderio un bisogno anche profondi non necessariamente codificabili che ci spingono a a un classico russo o a un contemporaneo della letteratura nordamericana è un impulso primitivo che ci che ci guida a scegliere la storia che in quel momento la nostra anima il nostro spirito sono in grado di di sostenere poi tutto quello che verrà dopo quindi l'incontro materiale con quelle storie fa parte dell'esperienza dell'esperienza di lettura dell'incontro con questo mistero che è che è in sito nella storia nella storia che mi porto che porto con me e che decido di leggere però tutto questo che apparentemente non ha nessun legame con la lettura paradossalmente è l'aspetto più importante perché costituisce quello spazio e quel tempo in cui io decido di prendermi cura di me leggere è prendersi cura di sé e organizzare il tempo e il luogo è invitare un'altra persona a condividere sub specie un libro a condividere la mia intimità a diventare parte della mia intimità e la bellezza di quello che succederà dopo dipende anche dalla cura che io metto nel circondarmi di 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 quei dettagli che mi permetteranno di essere accogliente verso personaggi che non conosco che potranno farmi innamorare o potranno disturbarmi ma che io ho già deciso di di ascoltare e quindi leggere porta in sé una dimensione primitiva che è che converge con il mio bisogno di intimità e quindi vedete come non solo è il piacere di stare un certo numero di ore con una storia ma è anche il modo di di volermi bene e ritagliare un tempo per me è solo per me un tempo che lascia fuori tutto quello che diventa distrazione nella mia quotidianità nella mia ordinarità e quindi come lo organizzo questo spazio e questo tempo ognuno ha un luogo del cuore un tavolino un segnalibro non so quanti di voi io lo faccio al momento di iniziare un libro sceglie anche il segnalibro con cui segnerà il punto in cui si è arrivati ma scegliere anche il tè da bere biscotti con cui accompagnarlo è parte integrante dell'esperienza decidere di prendersi questo momento per sé vuol dire anche compiere per qualcuno è davvero così un atto di coraggio a lasciare fuori tutto il resto spegnere il telefono tenerlo lontano se si condivide casa con altre persone avvertire che quello è il momento in cui io sto dedicando dello spazio a me predisporre me stessa ad incontrare quella storia e quei personaggi quindi mettendomi il più comoda possibile sono tutte tracce di un bisogno che è un bisogno di conforto un bisogno di consolazione è un bisogno di intimità all'interno del quale mi sento amata mi sento compresa e soprattutto è un momento in cui io sospendo la porticosità del tempo le esigenze della quotidianità in leggete e moltiplicatevi dedico uno spazio a questo aspetto non perché io abbia il gusto della speculazione intellettuale e non perché o non soltanto perché personalmente considero lettura tutto e l'atto di leggere è l'ultimo aspetto della lettura proprio l'ultimo aspetto della lettura ma perché io credo che bisogna essere consapevoli anche di questo in quanto lettrici e in quanto lettori bisogna essere consapevoli del fatto che il nostro sguardo è talmente in grado di muoversi come gli occhi dei camaleonti che esercitandosi accogliere le piccolezze avrà poi la capacità di inglobare se stesso una quantità tale di dettagli per cui davvero il concetto di interconnessione tra noi e la realtà che ci circonda sarà naturale da considerare come perno intorno al quale ruota il nostro modo di stare sulla terra ma anche il modo in cui noi guardiamo la realtà che ci circonda per cui non posso scindere la scelta del libro il modo in cui faccio questa scelta compro online vado in libreria in libreria il libro non c'è prenoto aspetto che il libro arrivi innesco un meccanismo di attesa che mi farà crescere la voglia di leggere quel libro o me la farà passare non posso separare questi momenti dal momento in cui leggerò quella storia perché quei momenti propedeutici costruiscono la mia disposizione la mia disponibilità spirituale nei confronti di quello che leggerò e buona parte della mia esperienza di lettura si gioca sul terreno preverbale al punto che devo guardare al libro con l'incoscienza e l'inconsapevolezza dei neonati a cui si mettono in mano quei libri confiabili durante il bagnetto quella è lettura il bambino sta tenendo in mano un oggetto libro che porta all'atto meccanico di sfogliare delle pagine ecco perché perché per me è importante perché ogni azione che mi porta alla lettura è un'azione necessaria e proprio perché è necessaria io devo prestarci attenzione devo darle valore devo considerarla devo vederla nella sua plasticità devo essere devo essere in grado di rendermi conto che senza quell'azione forse la mia esperienza di lettura è un po' più povera senza la consapevolezza di quell'azione la mia esperienza di lettura è un po' più povera e più frettolosa mancherà di qualcosa leggete e moltiplicatevi scrivo questo è proprio un estratto quindi una mezza paginetta si fa presto tuttavia a dire lettura la nostra lingua non contempla un termine specifico diverso da lettura per indicare ad esempio il tempo passato a scorrere con lo sguardo le parole e le immagini sulla pagina il processo di lettura comincia molto prima di quando ci mettiamo comodi col nostro libro tra le mani e cominciamo a leggerlo molto prima addirittura di quando impariamo a leggere perché la lettura è un processo per gradi che implica una relazione mentale ma anche una relazione materiale con il libro per cui davanti a chi non ha mai letto a chi non sa leggere a chi non sa cosa o come leggere il nostro deve essere un atteggiamento positivo e propositivo lì c'è la miniera dentro la quale dobbiamo accettare di calarci guardare un insieme di libri dice Aidan Chambers in lettore infinito è già un successo la scelta di un libro è un successo la decisione di prestarvi maggiore attenzione o di trascurarlo a favore di un altro è un successo iniziare a leggere è un successo è tutta una questione di tempo di spazio e di metodo si deve avere la pazienza che il meccanismo si inneschi e cercare il tempo per leggere e lo spazio in cui farlo l'ambiente giusto favorevole alla nostra idea di comodità e la disponibilità a sperimentare metodi e supporti di lettura diversi che vadano oltre la lettura classica gli audiolibri la lettura ad altavoce i silent books i pop-up i cataloghi fotografici mi sembrerà strano ma tutto l'insieme di queste piccole azioni i preliminari preparare il tè coi biscotti scegliere il segnalibro stabilire l'intensità della luce come sedersi programmare dove leggere dentro casa al parco al bar in biblioteca fanno già parte del processo di lettura sono già lettura in biblioteca l'intensità Grazie.